Ciao a tutti, si risana la situazione con lei, chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, segue il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Mescoliamo le carte, togliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali, la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Adesso concentrati, concentrati su questo lui, su questa lei, del quale vuoi sapere se si risana la situazione, dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Per chi ha scelto la carta 1, diciamo che ci sono ottime possibilità che la situazione si risani, ci sono davvero ottime possibilità, però ci vorrà un tempo lungo. Chi ha scelto la carta 2, diciamo che le possibilità ci sono, vanno coltivate. Chi ha scelto la carta 3? Le possibilità ci sono se ti dimostrerai un maschio alfa, solido e sicuro di sé, che ha scelto la carta 3? Sì, ci sono perché è una persona che è comunque coinvolta e innamorata di te. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!